In un sistema di voto complesso come quello americano, un pugno di stati può bastare per decidere il prossimo inquilino della Casa Bianca, ed è sui cosiddetti swing state che si stanno concentrando le forze e le attenzioni dei candidati nell'ultima settimana di campagna elettorale. L'obiettivo di conquistare i 270 grandi elettori che poi formalmente decideranno chi sarà presidente fra Donald Trump e Joe Biden, si gioca negli stati in bilico in cui, per ragioni storiche, demografiche e sociali, nessuno dei due campi predomina stabilmente. La situazione è incerta in stati molto popolosi, che dunque esprimono un numero più alto di grandi elettori come Florida e Ohio, ma anche nel cuore del Midwest, in Nebraska, Michigan e Wisconsin, cui Trump ha concentrato una serie serrata di comizi e proprio qui Biden viene dato in vantaggio, mentre nel 2016 Trump vinse per poco. Stavolta fanno la differenza il voto delle donne e la gestione della pandemia, differenza tutta in negativo per Trump. Fanno gola anche i 20 elettori della Pensilvania, nuovo epicentro delle proteste contro la brutalità della polizia contro i neri dopo l'uccisione di un afroamericano di 27 anni con problemi mentali, tematiche che scuotono gli Stati Uniti da mesi e avranno un loro peso specifico. Insieme con i candidati è partito lo scatto finale anche dei sostenitori. Il miliardario dei casinos, Sheldon Adelson, ha investito 75 milioni di dollari per lanciare spot tv negli swing state a favore di Trump, mentre l'ex sindaco di New York City, Michael Bloomberg, sta spendendo circa 15 milioni in pubblicità televisiva per l'ex vicepresidente Joe Biden in Ohio e addirittura nel Texas di tradizione repubblicana. Due Stati vinti facilmente dal presidente Trump nel 2016, ma ora ritenuti contendibili. Grazie a tutti.